Dopo un anno di estrema difficoltà in cui si è azzerato il turismo dai paesi extraeuropei come USA, Russia e Oriente, il traffico aereo ha avuto un calo del 90%, la Toscana, terra del rinascimento, è pronta a rinascere di nuovo. Il settore turistico si prepara a ripartire nel 2021 dal turismo di prossimità. Per i viaggi più lunghi si dovrà aspettare il 2022 e lo fa grazie a uno stanziamento di 6 milioni di euro da parte della regione toscana. Noi puntiamo molto a descrivere, a far percepire, come del resto è anche letta, la Toscana come un luogo da vivere, dove l'esperienza è il primo elemento su cui basare la motivazione per vivere in Toscana e venire a passare anche lunghi momenti di vita, anche per esempio nei borghi, dove in qualche modo c'è la sensazione di un riscatto proprio attorno alla pandemia. E poi anche le città d'arte che avranno necessità di ripensarsi profondamente nelle funzioni, sicuramente saranno comunque l'oggetto del desiderio dei cittadini del mondo. Io penso che se accompagniamo questa fase molto critica, anche di transizione, perché prendere i voli sarà più costoso di prima, ci saranno tante compagniere che falliranno e quindi sarà anche più complicato programmare viaggi molto lunghi nel mondo. Ma in questo tempo di transizione noi dobbiamo sapere che abbiamo una vocazione internazionale, e guardare al cittadino del mondo che vuole e può venire in Toscana a fare la sua vacanza e non solo un breve tratto della sua vacanza, ma un'esperienza anche più lunga. Nell'attesa di ripartire, non appena sarà possibile, Toscana Promozione Turistica negli scorsi mesi ha lavorato al fianco di oltre 240 comuni che vanno a comporre i 28 ambiti turistici della regione. Il lavoro, che si è volto tutto in digitale su una piattaforma innovativa, ha visto un confronto diretto tra le istituzioni e i comuni. Sono state realizzate oltre 1500 interviste ad imprenditori del territorio, a cui seguiranno 53 laboratori in programma nei prossimi giorni. È stato un anno ovviamente difficilissimo, il turismo soprattutto di lunga provenienza si è praticamente annullato, e sapete quanto è importante per la Toscana il turismo soprattutto degli Stati Uniti e dei paesi asiatici. Abbiamo avuto solo turismo di prossimità, non siamo stati fermi, però in quest'anno abbiamo completamente ripensato l'offerta della regione, collaborando molto con le destinazioni, i territori e gli enti locali e collaborando molto con la filiera delle imprese. L'offerta quindi quest'anno viene completamente ripensata e riorganizzata in sette grandi temi della Toscana, da quelli più classici come Firenze e le città d'arte, ha invece i sapori e i borghi che sono mete di attrazione da sempre per la Toscana, ma anche con offerte fortemente innovative, per esempio tutto il tema della lunga permanenza. In questo la Toscana è un posto di riferimento perché è ben collegata, perché offre paesaggi incredibili e quindi ci ha permesso di pensare un'offerta che si chiama Long Stay. Il Piano Operativo 2021 concentrerà i 6 milioni di risorse messi a disposizione dalla regione in 5 ambiti specifici, l'area Business to Business come le fiere e i workshop con i grandi tour operatori internazionali, la campagna Rinascimento Senza Fine e il Focus China, i progetti di Costa Toscana e Isole Toscane, il tema dei cammini e le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, gli interventi della Governance con Toscani Together e infine le ricerche di mercato, a partire da un'indagine sullo stato di salute del brand Toscana.